Allora, ripartiamo subito con un ospite, do il benvenuto a Fabio Fortuna, economista e rettore di Uni Cusano. Grazie di essere qui con noi. Vorrei subito chiedere, professore Fortuna, abbiamo sentito dai nostri titoli, quanto sta accadendo in Europa con manifestazioni che sfociano anche in violenze con le forze dell'ordine. Secondo lei c'è anche il rischio che anche in Italia si verifichi un'escalation di questo tipo? Speriamo proprio di no, nel senso che anche in Italia si sono avuti degli episodi purtroppo difficili. Certamente le dimensioni assunte in Olanda e in Austria preoccupano, anche perché in altri paesi la situazione ha assunto tutti la Germania dove la pandemia sta dilagando, ma anche la Francia nel corso di una settimana ha raddoppiato il numero dei contagi. Quindi c'è una diffusione che continua a essere importante e forse l'Europa nell'ambito del processo di integrazione lento che sta vivendo doveva dare un coordinamento maggiore a mio giudizio a tutte queste vicende che riguardano la pandemia. Certamente i disordini sono legati poi a contestazioni che non rispettano nemmeno in alcuni casi la libertà che è rimasta intatta di non vaccinarsi. Perché poi il problema essenziale è quello, nel senso che la campagna di vaccinazione dove è andata avanti ha prodotto dei frutti. Non si è imposto l'obbligo del vaccino, l'Aussia lo imporrà dal primo febbraio, speriamo che in Italia ciò non sia necessario. Come diceva lei, ci sono delle ipotesi di un super green pass, cioè green pass concesso a chi ha fatto due dosi oppure chi ha guarito dalla malattia, escludendo l'ipotesi dei tamponi, tranne il caso in cui ci si leghi a lavorare. Vedremo come si evolverà la situazione e speriamo che ci sia. E' anche la questione del Natale con interessi economici che riguarda il periodo delle festività in ballo, anche il settore turistico, che rischia molto su questo fronte. Non c'è dubbio, infatti emergono grandi preoccupazioni perché già stanno diminuendo le prenotazioni. Con l'aumento della pandemia, la possibilità di nuove restrizioni, la possibilità che alcune regioni vadano in zona gialla, arancione o addirittura rossa, speriamo che ciò non si verifichi. La pandemia ha continuato a sorprenderci perché in realtà in Italia, tutto sommato, una volta tanto siamo stati più bravi di altri paesi europei. E questo è un bene perché ha prodotto risultati buoni sotto il profilo dell'economia. Prima la salute, ma poi anche l'economia ha la sua importanza perché bisogna andare avanti. Il settore turistico è preoccupato, soprattutto le città d'arte, ma anche tutto il mondo delle stazioni sciistiche, perché eventuali aggravamenti della pandemia potrebbero portare ulteriori restrizioni. Professore, a proposito di economia, arrivano anche notizie in qualche modo confortanti? Il dato di ieri, ad esempio sulla manifattura italiana, che vede un buon risultato dell'Italia a confronto con altri paesi europei. Da economista, quale giudizio dà di questo dato? Il giudizio è buono, la ripresa in Italia è significativa, ormai lo diciamo da un po' di tempo. Sicuramente i dati macroeconomici ci confortano. Confindustria, che fa sempre delle analisi curate e attente, ma anche prudenti, ha detto chiaramente che l'industria manifatturiera in Italia sta andando meglio per la Germania, per la Francia, come tanti altri settori. E questo deriva dal fatto che forse sono state fatte delle scelte che vanno però continuate e noi cittadini dobbiamo contribuire con i comportamenti individuali a far sì che non ci siano ipotesi di nuove restrizioni che possano arrecare un forte disturbo a questo processo di ripresa, che però ancora è avvertito poco dai cittadini perché la ripresa poi si trasla sulle tasche dei cittadini con un po' di fatica, anche e soprattutto in considerazione dell'aumento dei costi dei prodotti energetici e anche degli altri, che un po' rende poco palpabile per il cittadino questa ripresa di cui noi tanto parliamo. Grazie, è finito il tempo a nostra disposizione, il professor Fabio Fortuna che saluto e ringrazio, economista e rettore di Uni Cusano, grazie per essere stato con noi.